Purtroppo ci tocca seguire da 11 anni questo caso che è nato nel 2007, in realtà 12, ma il sito è stato perimetrato nel 2008. E' stato perimetrato dopo la scoperta appunto nel 2007 il sequestro della discarica a Tremonti da parte del compianto Guido Conti e della forestale. E da allora seguiamo questo procedimento che non sta portando purtroppo all'obiettivo, cioè le bonifiche. Ci sono dei ritardi e delle omissioni inaccettabili, le abbiamo ricordati alla Commissione, partendo in primis dal Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente è l'ente procedente per legge nei siti nazionali di bonifica, ma se fa le riunioni una volta all'anno, questa è stata la media, in alcuni anni non ha fatto neanche una riunione, beh è difficile portare a casa qualche risultato. Anche sulla trasparenza ha grandi problemi il Ministero dell'Ambiente, non garantisce ai cittadini l'accesso alle informazioni nei tempi necessari, previste anche in quel caso da una legge di 14 anni fa, il Decreto 195-2005. E quindi il Ministero dell'Ambiente è in grave ritardo. Poi ci sono delle questioni anche più specifiche, per esempio anche di alcuni enti locali, come la provincia di Pescara, che doveva individuare i responsabili della contaminazione delle diverse aree e per troppo tempo non l'ha fatto, e mancano alcune aree importanti come l'area industriale. Ovviamente mancando i responsabili della contaminazione, l'individuazione dei responsabili, ovviamente manca chi materialmente deve fare la progettazione, il progetto per la bonifica e eseguire i lavori, ovviamente. Quindi ci sono ritardi anche nella riperimetrazione del sito. Ci sono state scoperte altre aree inquinate, per esempio a Piano Torta, che dovrebbero essere incluse nel sito nazionale bonifica, anche qui il Ministero dell'Ambiente da più di due anni è inadempiente da questo punto di vista. Bisogna cambiare certamente passo. Noi crediamo che anche la Procura potrebbe intervenire per cercare di censurare alcuni ritardi e omissioni che a me paiono palesi, anche perché nel frattempo gli inquinanti stanno uscendo nell'ambiente verso il fiume Pescara, attraverso la falda, il fiume vengono trasportati a valle, addirittura sono arrivati a contaminare l'aria e anche gli alberi, cioè gli alberi intorno al sito sono contaminati essi stessi. I pesci, questo vuol dire che c'è una situazione molto molto grave che deve essere attenzionata anche dal punto di vista epidemiologico. Anche in questo caso c'è stato un forte ritardo, la Regione non è stata in grado di garantire una sorviglianza epidemiologica, al nostro avviso, adeguata. È intervenuto l'Istituto Superiore di Sanità che con uno studio recentemente ha evidenziato criticità importanti e lo stesso Istituto Superiore di Sanità ha consigliato vivamente di condurre studi approfonditi. Noi riteniamo che la Regione potrebbe dare all'Istituto Superiore di Sanità un incarico specifico all'Istituto Superiore di Sanità per fare uno studio da riconsegnare magari fra uno o due anni.